Urea breattest si tratta di un esame non invasivo e non doloroso che ha lo scopo di evidenziare la presenza di helicobacter pylori per lo svolgimento viene raccolto un campione di aria ispirata poi al soggetto che sta facendo l'esame viene dato una bevanda contenente urea c13 cioè urea marcata mediante l'utilizzo di un isotopo del carbonio si attendono quindi 30 minuti e si preleva un campione di aria ispirata dato che una delle caratteristiche del helicobacter pylori è quella di scindere l'urea in bicarbonato e ammoniaca nell'aria ispirata sarà possibile evidenziare la co2 marcata questa in un soggetto portatori di helicobacter pylori sarà presente in quantità maggiore rispetto a quella che sarebbe presente in un soggetto che non ha l'infezione in un soggetto sano infatti non essendoci a livello dello stomaco la presenza del batterio l'urea che viene somministrata è eliminata nell'urine l'esame è molto affidabile ma richiede un'attenta preparazione per evitare di avere risultati falsati in particolare chi deve sottoporsi all'esame si deve presentare digiuno da almeno sei ore e nelle tre settimane che precedono l'esame non deve aver assunto antibiotici in particolare se associate a inibitori della pompa protonica non deve aver utilizzato nelle settimane precedenti gastro protettori che siano inibitori di pompa o h2 antagonisti eccetera sarà cura del laboratorio che effettuerà il test o del medico curante fornire al paziente delle istruzioni dettagliate al fine di evitare falsi risultati test helicobacter pylori nelle feci il test si basa sulla ricerca dell'antigene fecale di helicobacter pylori e viene eseguito su un campione di feci per poter eseguire il test non devono essere stati assunti nelle due settimane che precedono l'esame antibiotici inibitori di pompa protonica e prodotti che siano a base di bismuto l'esame se positivo indica che nelle feci si ha la presenza dell'antigene delle helicobacter e di conseguenza la presenza di un'infezione sostenuta da questo batterio gastroscopia ed esofago gastro duodenoscopia questo esame permette l'esame diretto di esofago stomaco e duodeno la procedura prevede l'utilizzo di uno strumento particolare il gastroscopio lo strumento è composto da un tubo flessibile e da una telecamera la quale trasmette le immagini che rileva su di uno schermo in genere l'esame viene eseguito con un'anestesia locale a livello oro faringeo e spesso una lieve sedazione in effetti il disagio dato dal passaggio della sonda è minimo ma di solito si preferisce una somministrazione in genere in forma di spray di un anestetico a livello della bocca e della faringe per eliminare anche questo possibile disagio se necessario durante l'esame possono anche essere prelevati dei campioni di tessuto il prelievo eventuale di campioni non è doloroso in genere l'esame ha una breve durata pochi minuti con il soggetto adagiato sul fianco sinistro l'esame è solo minimamente invasivo e la persona che vi si sottopone è in grado di respirare tranquillamente ed in maniera autonoma in quanto il gastroscopio passa attraverso l'esofago e quindi la trachea che è il canale dove passa l'aria rimane libera per eseguire l'esame la persona che vi si sottopone deve essere digiuno da 12 ore e l'ultimo pasto effettuato dovrebbe essere prevalentemente liquido questo è necessario poiché la presenza di cibo all'interno dello stomaco potrebbe di fatto limitare il campo visivo il paziente che si sottopone all'esame deve riferire eventuali allergie e l'assunzione di farmaci in particolare se questi rientrano nella categoria degli anticoagulanti la struttura presso la quale si eseguirà l'esame fornerà istruzioni dettagliate per la preparazione all'esame stesso se sono stati somministrati serativi durante lo svolgimento dell'esame il paziente non può guidare per un periodo di tempo che varia dalle 12 alle 24 ore anche se soggettivamente si sente in grado di farlo una volta effettuato l'esame l'azione dell'anestetico sulla gola e sul palato scompare gradualmente nel giro di circa un'ora dopo questo tempo una volta che il riflesso della deglutizione è di nuovo attivo è possibile mangiare ovviamente se si desidera farlo se si decide di mangiare meglio un pasto leggero qualora durante la gastroscopia sia stato eseguito un prelievo di materiale meglio evitare i cibi caldi in quanto la loro assunzione potrebbe determinare un aumento del rischio emorragico una domanda che spesso ci si pone è se la gastroscopia possa essere considerato un esame sicuro in genere si può considerare un esame sicuro anche perché la tecnica è utilizzata da tempo e su moltissime persone le complicanze comunque esistono ma sono rare tra queste la perforazione dello stomaco dell'esofago ma anche del duodeno evento questo veramente molto raro oppure l'evidenziarsi di un'emorragia che quando si esegue una gastroscopia a scoppio diagnostico ha una frequenza che va dallo 0 1 per cento allo 0,3 per cento dei casi prima di eseguire l'esame il paziente viene comunque adeguatamente informato delle possibili complicanze della loro frequenza in modo che possa dare il suo consenso alla procedura pH metria l'esame valuta il pH a livello dello stomaco o dell'esofago o di entrambi per effettuare l'esame viene inserita una sonda attraverso una narice e da qui viene fatta scendere a seconda del tratto che si intende esaminare la sonda si ferma alla fine dell'esofago o viene introdotta fino allo stomaco una volta giunta in posizione viene fissata in genere mediante l'utilizzo di cerotti la sonda invia i dati ad un piccolo registratore che li mantiene in memoria dopo 24 ore il tutto viene rimosso ed i dati vengono analizzati durante le 24 ore nelle quali si svolge l'esame il paziente può fare una vita normale cercando di alimentarsi e comportarsi come fa di solito l'esame non è doloroso ma è possibile avvertire il fastidio determinato dalla presenza della sonda o della sua discesa per questo talvolta può essere utile l'utilizzo di un leggero anestetico locale al momento dell'inserimento gastrinemia pepsinogeni e anticorpi anti elicobatter pylori sono esami che spesso vengono eseguiti insieme tramite un normale prelievo di sangue e danno lo scopo di valutare la situazione dello stomaco la gastrinemia come dice il nome stesso valuta la quantità di gastrina che è presente nel sangue la gastrina è un ormone che stimola la secrezione cloridrica stimola le contrazioni che determinano il rimescolamento del cibo stimola la sintesi degli enzimi digestivi aumenta il flusso di sangue favorisce l'accrescimento della mucosa dello stomaco preoccupante è la presenza di un alto livello di gastrina mentre un basso livello in genere tende a non destare preoccupazione il pepsinogeno viene secreto dalla mucosa dello stomaco e una volta attivato grazie all'acido cloridrico si trasforma in pepsina la pepsina è necessaria affinché si possa avere la digestione delle proteine assunte con l'alimentazione i pepsinogeni analizzati sono due il pepsinogeno 1 che viene prodotto dal corpo e dal fondo dello stomaco ed il pepsinogeno 2 che invece viene prodotto da tutto lo stomaco i pepsinogeni vengono analizzati per effettuare lo screening delle malattie dello stomaco e la valutazione di eventuali trattamenti in corso o precedenti gli anticorpi anti elicobatter pylori indicano l'avvenuto contatto con questo batterio i risultati di questi esami vengono interpretati complessivamente fornendo un quadro dello stato dello stomaco prima dell'esecuzione dell'esame è necessario non bere e non fumare per 4 ore inoltre appare necessaria la sospensione per un periodo più o meno lungo di alcuni particolari farmaci che possono interferire con l'esame il medico curante o il laboratorio presso il quale viene eseguito il test saranno comunque in grado di dare informazioni precise e personalizzate questi esami non hanno controindicazioni ricordiamo che benché possa essere pratico ed esaustivo eseguire gli esami contemporaneamente questi possono essere anche eseguiti singolarmente a seconda della necessità riscontrata dal medico di riferimento pep test l'esame si utilizza principalmente in caso di sospetto reflusso gastroesofageo e misura la pepsina presente nella saliva il campione di saliva viene prelevato mediante un kit specifico la saliva va raccolta la mattina prima di colazione o in caso di rigurgito qualora si raccolga la saliva al mattino è necessario avere alcuni accorgimenti come non lavarsi i denti non fumare non assumere farmaci non assumere acqua gasata e o comunque bevande o sostanze gasate e non assumere caffè grazie a tutti grazie a tutti